Al centro Porsche di Bari è tutto pronto. In questa sala da oggi e fino al 12 aprile i tecnici del colosso automobilistico tedesco presenteranno la nuova 911 Targa a giornalisti americani, cinesi, australiani, giapponesi, russi, solo per citarne alcuni, agli stessi tedeschi e alle maggiori testate italiane. Giornalisti che avranno modo di testare la nuova auto sulle nostre strade dove saranno girate immagini e scattate fotografie che faranno appunto il giro del mondo. Ci sono diversi percorsi che sono stati organizzati, si toccherà la murgia, si arriverà nella zona del Tarantino e per ritornare poi sulla fascia adriatica, le zone di Carovigno per risalire poi alla location dove si svolgerà la seconda parte dell'evento. Una grande occasione di promozione per la Puglia, una regione che con Porsche ha un feeling speciale. La Porsche ama la Puglia da quando ha potuto apprezzarne tutte le caratteristiche acquistando anche l'autodromo di Nardò che oggi è sede delle principali prove di tutte le case automobilistiche al mondo. Poi c'è questo centro Porsche che resta un punto di riferimento per Porsche Italia. Questo è il mio punto d'orgoglio perché noi abbiamo una penetrazione in Puglia molto importante, in ogni segmento siamo superiori alle medie nazionali.